Una delegazione cubana composta da Rafael Izquierdo, Enrique Lodos, Robert Rolando, in compagnia di Matteo Saccani, amministratore EI e Ileana S. dell'Agenzia Interscambio Culturale ed Economico con Cuba, ha visitato lo showroom dell'azienda GM. Il manager Francesco Colombo è positivo per l'esito di futuri accordi con il governo cubano, che aprirebbero le trattative anche con Canada e paesi sudamericani. Speriamo che il governo e le varie realtà, le agenzie governative cubane, scelgano GM per essere accreditato come fornitore del governo, per darci anche la possibilità di insegnare, prestare il nostro know-how, le nostre capacità produttive degli infissi di legno, in alluminio, in PVC, per poter ristrutturare e aiutare le agenzie del real estate cubane, soprattutto lo sviluppo della nuova area industriale di Marielle, dove dal porto dell'Havana, che rimarrà patrimonio dell'UNESCO, è un porto turistico, a 40 chilometri Marielle diventerà il porto commerciale, che è già operativo, dove stanno sviluppando una zona industriale di 400 chilometri quadrati. Il nostro intento è quello che una volta accreditati come fornitore del governo, aiutare le istituzioni locali e le società governative per lo sviluppo di questa nuova area nell'hotellerie e anche nella zona industriale.